Crescono i casi di contagio da Covid-19 in Campania. Registrate nella giornata di ieri ben 1544 nuove positività. Attore del Greco sono 49 nuovi positivi, dei quali 2 in regime ospedaliero, 1 ripositivizzato e restanti in isolamento. Certificate anche 24 guarigioni, sale quindi a 512 il numero degli attualmente positivi in città. Resta stabile il dato dei decessi, che è di 92. Intanto ieri tavolo tecnico ai vertici tra l'AS Napoli 3 Sud e i sindaci dei comuni vesuviani. A breve campagna vaccinale che dovrebbe aver luogo presso la Santissima Trinità di Torre del Greco. Sono 42 nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Al contempo si registrano anche 16 guarigioni. Sale quindi a 745 il numero dei cittadini attualmente positivi, 734 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Nel comune di Castellammare invece sono 350 gli attualmente positivi. Ogni giorno si registrano diversi casi di contagio, fra cui anche giovanissimi. Molte le critiche da parte di alcuni stabiesi che lamentano i numerosi assembramenti che si creano nei luoghi della Movida.